E quando sottraide entrambi i lati, chi può dire cosa rimane con la X? Sì? Sbagliato. Sì, mattone? Sì! È corretto! Risposta esatta! Niente! X equivale a zero! Prendete tutti esempio da lui! Cocca dell'iteriazze! Bransin! Risponderai tu alla prossima! Quando aggiungi X, ottieni Y uguale alla radice quadrata di meno uno. E quindi che cosa otteniamo? Ora! Una cosa così! Bella questa, Bransin! Stai sì, cortopite! Basta così, Bransin! Non costringermi a mandarti dal preside! Mattone, vuoi fare un tentativo tu? Bravissimo! Bravo, Mattone! È un numero immaginario, quindi non esiste! Vai così, Mattone! La selva cosa! Ho chiuso con sé! Bransin, no! È stato lui! Mattone con orecchio! Alza i tacchi e vai subito dal preside! Io non ho capito... Alza i tacchi e vai subito dal preside! Grazie a tutti.